Spera Mario, ho pochi pecorelli, mi faccio una passeggiatina, mi spesso un po', da sei anni vado appresso a questo, dopo l'ho lasciato a 16 anni, dopo a 40 l'ho ripresa un'altra volta e faccio un mutatore insieme a casa tua, l'ho fatta pure io, faccio un mutatore con Vincenzo a dieci anni, dieci anni dopo ho ripreso appresso alle pecorelli e stiamo qua, ringraziamo Oddio, qui le valle, sembra che per le fiaghe e allora si spazzate, non si può stare spazzate, non si può stare spazzate, non si può stare a me, non si può stare a me Grazie a tutti.